ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in compagnia di due persone strane a me conoscete lei la conoscerete più avanti col passare degli anni premetto alcuni video li ho spostati li faremo più avanti ma sto facendo un progetto enorme che vi farò un video parte più atti quindi tutti i video saranno rimandati quindi tra un po partirà la voce fuori scena ci faranno delle domande da fuori e noi risponderemo a una classifica di dieci domande quindi possiamo iniziare nome giulio pietro micia cognome 90 filippini dal vani età 22 21 da dove vieni originale sono dell'ucraina però sono di verona origini russe però vivo a verona italiana cento per cento vedi in italy come vi siete conosciuti voi tra qualche parole da piccoli da piccoli da piccoli sono andato a rompergli le balle che gioca con non so se vi ricorda vi metteremo un'immagine qua dei blade aid quelle strane trottoline che si tracciavano carine lui era lì su una botte e a una festa io sono andato lì a rompergli le balle ci siamo conosciuti così e l'ho conosciuta tramite lui così a casa in città lui la panetto lui stavo io stavo giocando con queste tortoline qua su una botte da solo perché a un certo punto viene stoppirona qua e mi chiede se può giocare volentieri e da lì sono i migliori amici siamo ancora qua quali deficienti su youtube invece lei era in città tranquillo che stavo passeggiando lei era con le sue amiche l'ho incontrato abbiamo iniziato a parlare da lì è nato tutto l'ho conosciuta in città e giulio l'ho conosciuto grazie a te cosa pensi delle altre persone che sono lì contato uno che è abbastanza pirla sentiamo i bracani e quell'altra devo ancora conoscerla bene comunque tranquilla io penso agli due lui lo conosco da ormai una vita quindi 15 dici anni ormai invece lei è la mia ragazza da ormai dieci mesi e sono felice io lo conosco da poco giulio invece vabbè ti trovi una ragazza cosa fai nella tua vita la lavoro e come lavoro faccio il giardiniere io vado ancora a scuola stai fermo con sta cosa faccio l'alberghiero io vado ancora a scuola e che hobby hai un po' di elettronica fatta in casa poi in generale comunque hobby principale mi dedico al canale youtube a questo qua io non ho hobby particolari faccio un po' tutto faccio un po' tutto quello che c'è da fare lo faccio magari alcuni sbagli ma no hobby particolari dormire uscire con pietro leggere cosa vorresti diventare grande sto già lavoro ha detto e faccio giardini e continuerò ma io adesso faccio l'alberghiero il giorno vorrei aprire un ristorante invece vorrei diventare un medico e spero di non ammalarmi qual è il tuo sogno nel cassetto raggiungere i 120 iscritti il mio parola è piacere bene da un pilota da corsa il mio sogno è diventato un medico qual è la tua paura più grande paure principalmente non ne ho tante possiamo dire più che altro alcune paure date eventualmente da delle energie che ho io di paure ne ho parecchie tra cui quella per i ragni poi c'era una da sopra dopo ho quella per gli insetti poi le altre sono un po' più minori ma queste qua sono le più grandi che ho io non ho paure no paura di perdere le persone innanzitutto vi ricordo di commentare iscrivervi se questo video vi è piaciuto lasciate tanti like e spolliciate iscrivetevi e dopo iscritti apparirà una campanellina la cliccate per ricevere tutte le notifiche in tempo reale quando mi hanno pubblicato i video fatelo perché purtroppo youtube non è costante con le notifiche ciao vi ricordo con un saluto entrizzante ciao addio sulla pianta si addio il patato tutto in terra ciao 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 ciao